Si comincia a definire il nuovo piano di sviluppo rurale 2023-2027. La Regione ne ha infatti dato l'avvio con la presentazione ad un vasto partenariato del Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale, CSR. Il sostegno agli agricoltori e agli allevatori, soprattutto nelle aree interne, è uno dei punti principali del nuovo piano. Tra le direttrici, infatti, anche la modernizzazione e innovazione del sistema agroalimentare, favorendo l'aggregazione territoriale e la valorizzazione del paesaggio rurale. Un miliardo e mezzo di euro è la cifra a disposizione come risorsa finanziaria. L'assessore regionale all'agricoltura Luca Sanmartino, il direttore generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura Dario Cartabellotta e il capogabinetto dell'assessorato Giovanni Cucchiara hanno incontrato i rappresentanti delle organizzazioni di categoria e dei sindacati confederali, degli agronomi e periti agrari, medici veterinari, agrotecnici, biologi, ma anche rappresentanti delle università e delle cooperative. Si pensa anche ad una promozione dei prodotti di qualità fuori dalla Sicilia. Dobbiamo fare eccellenza e farla conoscere all'Italia e al mondo, ha esclamato infatti l'assessore regionale Sanmartino. Vogliamo partire dall'ascolto, dal dialogo e dal confronto per scrivere la nuova PAC 23-27, ascoltando quelle che saranno le proposte, ma poi formalizzando, così come previsto dalle procedure ministeriali, il tavolo di confronto ufficiale che con le organizzazioni dei produttori e col mondo scientifico ci accompagnerà a individuare bene come impostare la nuova programmazione, i nuovi bandi, ma soprattutto come spendere le risorse per dare beneficio ai nostri produttori, ma soprattutto al nostro prodotto. In un momento storico in cui la Sicilia deve rilanciare l'internalizzazione del prodotto e soprattutto l'export, noi vogliamo coinvolgere il mondo scientifico a dare una mano alla nostra terra a trasformare alcune eccellenze in poli produttivi e quindi a trasformare la vocazione del nostro territorio in quella che la natura ci ha consegnato.